Sono circa 427 milioni gli elettori chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento europeo. Nei 28 paesi interessati la consultazione si terrà sulla base delle normative nazionali, il che rende molto ampio lo spettro delle varianti. Ad esempio, mentre ovunque l'età minima per il diritto di voto è di 18 anni, in Austria e a Malta voteranno già i sedicenni e in Grecia i diciassettenni. Variabile anche il calendario del voto, con Paesi Bassi e Gran Bretagna, che aprono la strada già giovedì prossimo. Venerdì seggi aperti in Irlanda e nella Repubblica Ceca e sabato in Lettonia, Malta e Slovacchia. Tutti gli altri paesi, 21 in totale, voteranno domenica. In Italia i seggi apriranno alle 7 del mattino, per chiudere alle 22 della stessa sera, quando comincerà lo spoglio. Solo in 5 paesi il voto è considerato un obbligo di legge, Belgio, Bulgaria, Lussemburgo, Cipro e Grecia. Il plenum del Parlamento con sede a Strasburgo conta 751 deputati, ma questo numero scenderà a 705 dopo che verrà sancito il divorzio della Gran Bretagna dall'Unione. Il paese più rappresentato risulta essere la Germania. In ragione del suo peso demografico elegge 96 parlamentari. Solo sei eurodeputati, invece, nei paesi più piccoli come Malta, Cipro e Lussemburgo. Sulla consultazione grava l'incognita dell'astenzione. Un dato costantemente in crescita sin dalle prime consultazioni europee del 1979. In quella occasione si registrò un'affluenza media del 61,99%, affluenza scesa al 42,16% nel 2014. Ancora più preoccupanti i risultati in molti dei paesi dell'est, dove cinque anni fa l'astenzione ha superato il 75%.